Alessandro Lelosa, Infracom, siamo qui oggi per condividere i risultati di Assofranchising dell'ultimo anno, per parlare della nostra offerta, delle cose che stiamo facendo insieme. Noi condividiamo con Assofranchising alcune cose, la nostra presenza territoriale, una grande flessibilità, che sono quelle che ci permettono e ci guidano verso un rapporto con partner che sono diffusi sul territorio e che hanno bisogno di soluzioni innovative e flessibili. Eroghiamo servizi di rete, servizi data center, che sono quelli che poi ci permettono di dare delle applicazioni distribuite presso i franchisee e governate anche con la collaborazione dei franchisor. dovunque si trovino i franchisee sul territorio nazionale.